Bene, farò un breve monologo. Sull'economia e l'ecologia. Ora, in un monologo teatrale accadono due cose tipicamente, devo fare questa avvertenza. Ci sono due problemi. Il primo problema è che in un monologo teatrale spesso per dire delle cose sensate, per dire delle cose intelligenti, bisogna far finta di essere completamente fuori di testa. E il secondo problema è che spesso in un monologo teatrale per andare dritti al punto, dritti al cuore della questione, bisogna procedere storti, bisogna prenderla larga, bisogna fare dei giri strani. Ecco, questo monologo comincia subito male, malissimo, perché i due problemi si presentano contemporaneamente. Infatti il monologo comincia esattamente così. Ho fatto un sogno. No, non come Martin Luther King, un sogno più brutto, quasi un incubo. Ho sognato che ero un gatto. No, non come il gatto con gli stivali, un gatto più banale, più normale, più triviale, un gatto che pigliava i topi. Insomma, ho fatto questo sogno. Ero un gatto, pigliavo i topi. E i topi che pigliavo me li mangiavo. I topi che non pigliavo erano contenti di non essere stati pigliati da me. Per cui quando io non c'ero, festeggiavano, cantavano, ballavano, mangiavano, bevevano, si davano alle gozoviglie, perché quando il gatto non c'è, i topi ballano. Ma non solo ballavano, come ho detto, cantavano, mangiavano, suonavano, si accoppiavano come porci, i topi dico. E accoppiandosi come porci, si moltiplicavano come conigli. Comunque, io continuavo a cacciarli e intanto pensavo, aspettate, aspettate, c'è poco da stare allegri, poco da festeggiare. Com'è non si scherza, io non sono un pacifista, io non sono Martin Luther King, io non sono un personaggio di fiaba, non sono il gatto con gli stivali. Io sono un gatto che piglia i topi. E più topi pigliavo, più diventavo abile nella difficile arte di pigliare i topi. Più diventavo abile, più topi pigliavo, più topi pigliavo, più diventavo abile, abile pigliavo, pigliavo, abile, pigliavo, pigliavo, finché un giorno sono diventato così meravigliosamente, così straordinariamente abile che i topi del mio circondario li ho sterminati tutti, tranne due, in un giorno solo, due entrambi maschi ed essendo entrambi maschi non hanno potuto riprodursi, e due maschi, voglia fare i porci, nel senso dei topi comunque, il giorno dopo ho mangiato anche loro, e il giorno appresso mi sono accorto che non c'erano rimasti più topi da mangiare allora mi sono detto che strana, che strana strana cosa, ma vuoi vedere, vuoi vedere che sono diventato talmente abile a procurarmi il cibo che adesso mi tocca morire di fame, ho cominciato a patire, a soffrire a smagrire sempre di più, sempre di più, sempre di più, quando stavo per tirare le cuoia mi sono svegliato nel mio letto in un bagno di sudore, col cuore a mille e le tempie che pulsavano mi sono detto, meno male, meno male che era tutto un sogno, meno male che non sono morto questo me lo devo ricordare però, mi devo ricordare di non morire, e se muoio mi devo ricordare di non rinascere gatto e se rinasco gatto mi devo ricordare di non diventare troppo abile a pigliare i topi, e se divento troppo abile a pigliare i topi mi devo ricordare comunque di non sterminarli tutti, tranne due, entrambi maschi in un giorno solo mi devo ricordare che sì, 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 è vero, quando il gatto non c'è i topi ballano ma è altrettanto vero che quando i topi non ci sono più, il gatto muore di fame ecco allora uno potrebbe dire, scusa non hai detto che sarebbe stato un monologo sull'ecologia e sull'economia che diavolo ha a che fare tutta questa tiritera coi due temi preannunciati in più questo è solo il delirio notturno di un povero pazzo non ha nulla a che fare con la realtà questi non sono problemi da gatti i gatti non hanno il problema di diventare troppo bravi a pigliare i topi è vero avete ragioni queste questi non sono problemi da gatto però sono problemi da uomini nel senso che noi esseri umani evolvendo siamo diventati così abili abbiamo raggiunto una tale capacità di trasformare il suolo, gli elementi della natura a nostro vantaggio di sfruttarli, di nutrircene che è come se fossimo diventati dei gatti straordinariamente forti straordinariamente abili, straordinariamente agili ma anche straordinariamente voraci e dobbiamo stare attenti allora dobbiamo stare attenti a non fare lo stesso errore che ha fatto il gatto dell'incubo il gatto dell'incubo ha fatto due errori uno ecologico e uno economico quello ecologico è presto detto ha sterminato una specie animale in un'abita il topo mus musculus parentesi etimologica i muscoli si chiamano così perché nell'azione, nell'attività fisica noi li gonfiamo e li sgonfiamo li inturgidiamo e li rilassiamo e essi appaiono e scompaiono con la stessa velocità guizzante dei topi cioè non è il topo mus musculus che si chiama così perché ha i muscoli no, sono i muscoli che si chiamano così perché hanno i topi comunque, chiusa la parentesi etimologica questo è il problema, è l'errore ecologico sterminare una specie vivente in un habitat e l'errore economico? l'errore economico è evidente è morto di fame la catastrofe economica per eccellenza si dice pure di uno che ha poca disponibilità economica ma quello è morto di fame, infatti ora il punto è che in realtà è difficile che un errore ecologico non sia anche economico e viceversa perché queste due cose, che se ne dica economia ed ecologia sono legati assieme nell'intimo, nell'etimo nella radice stessa della parola ecologia economia, cosa significa? dal greco oikos, logos pensare all'oikos economia dal greco oikos, nomos gestire regolare l'oikos ma oikos cosa vuol dire? oikos è una parola greca come tutte le parole non ha un unico univoco significato ma piuttosto è un poliedro è un grappolo di significati il significato più immediato, più piatto, più diretto di oikos è casa e in questo senso la parola ecologia significa semplicemente pensare alla casa ed è abbastanza illuminante di per sé questa cosa perché significa che quando noi facciamo qualcosa per l'ambiente non facciamo qualcosa così con spirito altruistico lo facciamo in realtà per la nostra stessa sopravvivenza perché l'unità di sopravvivenza non è l'animale è l'animale nell'ambiente è l'essere vivente nell'ambiente questo lo dico perché adesso la coscienza ecologica piano piano si sta facendo strada a me mi ricordo fino a dieci anni fa quando tu parlavi di ecologia c'era la gente che ti guardava così forse questo non ha niente da fare allora pensa a queste cose l'acqua, le erbe, gli albi era visto un po' così l'ecologista come uno che ha degli scompensi emotivi sai quelli che hanno i figli grandi li vanno fuori di casa perché vanno a studiare via si sposano rimangono da soli non sa bene come fare prendono un cane lo mettono in casa loro a dormire anche sotto le coperte era visto un po' così l'ecologista come uno che ha i cani grandi sono andati via di casa non sa bene cosa fare degli scompensi emotivi abbraccia gli alberi ma non è così cioè l'ecologia è qualcosa che ha senso fare anche per mero come dire egoismo intelligente per semplice lungimiranza comunque sia c'è un altro significato della parola oikos oltre a casa che è ancora più potente è ancora più profondo oikos in greco vuol dire casa non solo nel senso di edificio ma anche nel senso delle varie persone che coabitano in una stessa casa e cosa sono? diverse persone che vivono tutte insieme nella stessa casa una famiglia ecco l'ecologia e l'economia sono perlomeno accomunate da questo ci spiegano che la rete delle nostre relazioni quindi in senso ampio la nostra famiglia è più vasta è più ampia è più potente di quello che noi saremmo portati a pensare che ci sono dei pezzetti di mondo che magari a te sembrano lontani remoti e estranei ma se li guardi meglio li guardi un po' più lucidamente li guardi alla luce di un po' di economia di un po' di ecologia e ti accorgi che quei pezzetti di mondo sono in relazione con te e tu sei in relazione con loro e allora ti prende un brivido ti prende un'eccitazione un po' come quando sai quando incontri uno che tu pensi sia un perfetto estraneo e uno che non ha nulla a che fare con te poi ti metti a parlare 5 minuti 10 minuti 12 minuti scopri che è un tuo lontano parente allora gli dici ma come? ma allora tu ma allora io ma allora io e te ma pensa oppure non è un tuo lontano parente ma è un tuo vicino di casa è uno che non l'ha incontrato mai fuori dalla porta nei pressi di casa tua ma in realtà abitanti vicinissimi oppure non è un tuo lontano parente non è un tuo vicino di casa ma avete un amico in comune ma un carissimo amico in comune che non vi ha mai presentati ma avete un amico in comune ecco l'economia e l'ecologia ti fanno fare così ti fanno guardare dei pezzetti di mondo che a te sembravano lontani remoti estranei ti fanno dire ma come allora tu allora io allora io e te ma pensa ora vi faccio degli esempi vi faccio degli esempi se io vi chiedessi ma qual è la relazione economica non ecologica non ecologica economica fra gli esseri umani e i pipistrelli ora a parte le recenti catastrofi non si è capito è stato il pipistrello è stato il pangolino ma al dia di quello come contribuisce all'economia umana il pipistrello cosa dà cosa dà il pipistrello all'uomo a livello di fatturato cosa ci fattura un pipistrello a noi umani se mi avessero fatto questa domanda fino a poco tempo fa avrei detto cosa dà dunque dunque le pecore danno la lana i bacchi la seta tartarughe gli occhiali i cocodrilli le borse i pipistrelli da bambino pensavo che i pipistrelli dessero gli ombrelli se quelli neri quelli retratti poi ho scoperto no poi ho scoperto no allora vi racconto questo fatto nel 2006 negli Stati Uniti c'è stata un'epidemia di una malattia che si chiamava white nose syndrome sindrome del naso bianco che colpiva i pipistrelli e ne sono morti a miriadi e siccome i pipistrelli mangiano gli insetti dal 2006 per diversi anni nei campi degli Stati Uniti ci sono stati più insetti cosicché gli agricoltori degli Stati Uniti hanno dovuto usare più insetticida cosicché hanno speso più soldi in insetticida allora a un certo punto il Dipartimento di Ecologia e Biologia Evolutiva del Tennessee si è fatto una domanda si sono chiesti ma esattamente in questi anni quanto è che gli agricoltori hanno speso in più per il fatto che sono morti così tanti pipistrelli hanno fatto uno studio dal 2006 al 2011 nel 2011 hanno pubblicato i risultati su Sign su una rivista molto autorevole quindi voi capite sono arrivati a un dato che è anche particolare perché come lo potremmo definire è la quantificazione economica del lavoro che tutti gli anni i pipistrelli fanno negli Stati Uniti d'America ripetiamo la quantificazione economica del lavoro che tutti gli anni i pipistrelli fanno negli Stati Uniti d'America e cosa è venuto fuori 23 23 cosa 23 miliardi di dollari 23 miliardi di dollari non ho capito 23 miliardi di dollari l'anno 23 miliardi di dollari 23 miliardi di dollari è una cifra spaventosa inconcepibile non ho neanche idea di quanto siano non ce li avrò mai in tasca 23 miliardi di dollari per quanto mi possa andare bene sta carriera qui del teatro allora ho cercato dei termini di paragone per farmi un'idea delle cose che valessero costassero 23 miliardi di dollari e ho trovato questo 20 miliardi di dollari quindi non 23 20 quindi di meno è stato il fatturato della Microsoft nell'anno 2014 20 miliardi di dollari era la quotazione in borsa di Google nel 2004 20 miliardi di dollari è la cifra con cui Facebook ha acquisito Whatsapp 20 miliardi di dollari era l'ammontare provocato dall'uragano Sandy nel 2012 hai capito che cifra spaventosa hai capito quanto lavorano i pipistrelli ma gratis ma non solo gratis senza dirgli niente anche perché al pipistrello cosa gli dici non è neanche da dire vabbè ci capiamo a gesti è secco sì è vero che ha un ecolocalizzatore per cui può percepire può sondare poi in un certo senso vedere però sai quando vuole in movimento quando sta fermo sta testa in giù vai te a capire cos'è che capisce allora è chiaro che alla luce di questi dati oggettivi scientifici incontrovertibili l'agricoltura medio americano avrà gettato uno sguardo di rinnovata luce sul pipistrello pensando fra sé e sé badando proprio i fatti propri ma pipistrello ma allora io e te ma allora tu ma allora io ma allora tu e io ma pensa ora gli esempi che potrei fare sono miriadi sono miriadi ne faccio uno che mi sembra il più coinvolgente il più emozionante allora dunque pensate a questa cosa è stata fatta una serie di interviste agli astronauti della NASA e gli hanno chiesto qual era l'esperienza più stupefacente più straordinaria e loro hanno detto beh quando eravamo bambini sognavamo di andare nello spazio pensavamo la cosa più emozionante fosse vedere la luna più da vicino sentirsi fra le stelle poi quando astronauti lo siamo diventati veramente ci siamo accorti che le cose non stavano così che era molto più emozionante in realtà semplicemente girarsi indietro e vedere la terra la terra tutta intero come un unico organismo con la linea che divide il giorno dalla notte che nello spazio non sono due concetti temporali sono due concetti spaziali la luminescenza dei temporali che è sempre da qualche parte i colori fantasmagorici delle aurore boreali che avvolgono tutta la terra e tu guardi e guardi guardi e non ci credi e pensi io sono un frammento di questa cosa e mi sono staccato appena provvisoriamente ma tornerò lì noi apparteniamo alla terra noi siamo la terra ed è così potente questa esperienza che la maggior parte del tempo libero che hanno gli astronauti nello spazio ora non so quanto tempo libero abbiano gli astronauti nello spazio presumo poco comunque la maggior parte lo passano così osservando dall'oblò la terra tanto che a questa attività che poi attività per modo di dire è stato dato un nome earth gazing fissare la terra è meglio se alle cose dai un nome è più dignitoso cosa fai tu Jack oggi pomeriggio abbiamo 12 minuti e 30 secondi liberi ma guarda sto 12 minuti e 30 secondi così come un salame vuoi mettere e poter rispondere faccio un po' di earth gazing bravo chi l'ho fatto bricoli discorso e allora e allora questa esperienza di essere una cosa col tutto una cosa con la terra di pensare di essere parte della terra è così potente che quando gli astronauti tornano non se ne lasciano più non se la lasciano più alle spalle si sentono ancora su questa enorme nave spaziale the starship earth la chiamano l'astronave terra e a questa esperienza così trasformante che ti porti dietro anche quando sei tornato sulla terra è stato dato un nome the overview effect l'effetto panoramica cioè vedi la panoramica vedi il mondo nella sua interezza vedi tutta la famiglia e ti cambia la prospettiva ti cambia il modo di sentire non riesci poi a non avere rispetto non riesci poi a non preoccuparti e a non occuparti di questo posto in cui siamo e la cosa è talmente potente che uno degli astronauti che l'ha provato si chiama Edward Mitchell ed è stato il sesto uomo ad aver messo piede sul suolo lunare quindi è uno che ha fatto la storia la storia dei viaggi spaziali si è detto ma non è possibile che questa cosa qui sia capitata solo a me sia capitata solo agli astronauti voglio dire sarà una deformazione professionale una malattia professionale ma no ma no può esistere il gomito del tennista il ginocchio della lavandaia non può esistere il sentimento dell'astronauta sarà qualcosa che qualcun altro in altri modi ha provato e si è rivolto all'università locale dove c'erano degli esperti di storia della filosofia della storia delle religioni di antropologia culturale e gli hanno detto beh sì sì signor Mitchell quello che lei ci descrive è uno stato mentale che è stato documentato e è possibile raggiungerlo tramite lo yoga o la meditazione ne parlano alcuni testi in due e ha ricevuto un nome come tutte le cose che vengono studiate ovviamente non è un nome in inglese è un nome nell'antica lingua dell'India il sanscrito si chiama in sanscrito Savikalpa Samadhi no no bellissimo the overview effects Savikalpa Samadhi cioè due cose così lontane l'astronauta della NASA con la tuta d'astronauta della NASA e il Sadhu cioè la Sheta Hindu sapete quelli che meditano nudi con le gambe incrociate con la barba lungo un metro col pallino rosso in fronte due mondi separati uniti nell'intimo da questa esperienza così potente così forte così trasformante così illuminante allora è chiaro quello che siamo instigati a immaginare l'astronauta della NASA con la tuta d'astronauta della NASA che va lì dal Sadhu Shiva Ita nuda con le gambe incrociate la barba lungo un metro il pallino rosso in fronte e gli fa Sadhu 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 Malora tu Malora io Malora io te ma pensa grazie mille grazie mille Roberto una performance molto profonda che fa capire appunto come ci sia un'interconnessione tra noi e gli altri e che come spesso ci si fermi appunto all'interno dello proprio spazio senza guardare oltre e anche senza preoccuparsi di quello che c'è al di là di questo spazio mi è piaciuta molto questa similitudine che ha fatto appunto rispetto alle reti delle relazioni all'altro che è in noi e questo è molto molto importante e faccio solo una domanda secondo lei voi avete lavorato anche con i ragazzi abbiamo visto il video appunto sulla spiaggia di Cesenatico che appunto vedevamo lei che recitava e quant'altro quale ruolo può avere l'arte lo spettacolo nel diffondere e sensibilizzare le persone rispetto a tematiche come per esempio quella ambientale o quant'altro ma credo che il teatro sia un'arma uno strumento formidabile perché è un veicolo capace di trasmettere insieme dati scientifici e emozioni scosse emotive allora quello che apprendi ridendo emozionandoti rabbrividendo poi ti rimane conficcato nel cranio ti rimane nella memoria e poi cominci a far parte della tua vita se di una cosa hai riso a crepapelle se di una cosa hai pianto poi è difficile dimenticarsela non è un dato inerte è un dato che comincia a far parte di te e quindi io vedo che quello che dico trasforma me stesso cioè dopo che io ho detto una cosa davanti a un pubblico prendendo gli applausi le risate le acclamazioni non sono più capace di far finta che quella cosa non esista non sono più capace di non averla detta allora ho fede nel fatto che quello che dico oltre a trasformare me possa trasformare anche in minima parte chi mi ascolta io sono sicuro che è così anche noi siamo sicuri che sia così e riteniamo appunto che il vostro lavoro sia assolutamente fondamentale sappiamo quanto il settore del teatro delle performance abbia sofferto in quest'anno e mezzo per noi era importante avervi qui avere anche appunto gli attori che hanno sviluppato questi spettacoli in quest'anno e soprattutto hanno cercato di trasmettere questi lavori fondanti della nostra economia attraverso il teatro quindi grazie mille grazie mille per essere qua con noi grazie grazie mille grazie mille grazie mille Grazie a tutti.